Siamo venuti a dare tangibilmente una mano alla cooperativa Giorgio Lapira che sta provvedendo a consegnare i primi colli raccolti con le donazioni delle farmacie del nostro territorio per l'emergenza ucraina. Quanto raccolto ed è già caricato su questo furgone oggi stesso partirà per le zone di confine della Romania con l'Ucraina. La raccolta è stata sviluppata sul nostro territorio in collaborazione con Federfarma Palermo, il Rotary Club Colonne d'Ercole, l'Ordine dei Farmacisti, la cooperativa Giorgio Lapira e l'Associazione Ucraini di Romania che riceverà questo materiale e provvederà alla distribuzione nelle zone di confine agli scollati che ne hanno necessità e con la consegna alla Croce Rosso. La raccolta delle donazioni dirette nelle farmacie continuerà la prossima settimana e in contemporanea nelle farmacie aderenti si svolgerà la raccolta delle donazioni dei sicuri cittadini.